Sì, sì, questa cade. E infatti, guarda, che c'è scritto qui? Sì, cade. Lui sa già leggere, cade. E infatti, questo piange, non ha sogno. Qui c'è scritto, vediamo. Posso leggere? Ha sogno. Quella lettera non la so. Sb-a-d-i-l-i-a. Sb-a-d-i-l-i-a. Sbadigliare. Come? Ci siamo quasi. S-b-a-d-i-l-i-a. Sbadigliare. 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 Sbadiglia. Che nome strano. Che nome strano. Sbagliare. Ora il bambino. Allora, chi ci sarà scritto qui? Che? Che? H-e-l-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i. Questo va a leggere? A meno. Ha paura. Questo bambino voglio. Sì. Aspettiamo il carcello. Che dura Do you want to continue?